Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Una lista composta da 19 donne, per due terzi da giovani, in larga parte professionisti e amministratori d'esperienza. Idee e rinnovamento su queste basi vera si presenta in campagna elettorale, 12 punti programmatici nati dall'ascolto a sostegno di Gianluca Festa, un candidato sindaco che da sempre tra la gente sottolineano gli attivisti. Dogana, Parco Santo Spirito, ma soprattutto addio agli schemi della vecchia politica. Eletti e non eletti saranno motore di un gruppo nato dal forum dei giovani e dall'impegno successivo consolidatosi intorno all'ex presidente Stefano Luongo. Abbiamo scelto di non ricandidare il 70% degli ex consiglieri per rinnovare, dicono ancora i componenti di Vera. L'esperienza di chi ha già amministrato sarà fondamentale per non commettere errori. Tanti volti nuovi della politica in prima fila. Libertà e autonomia dei giovani, la sottolineano tutti gli intervenuti, ringraziando i promotori della lista. Non mancano i passaggi politici di una campagna elettorale che sarà lunga ed articolata. È stato il candidato sindaco Festa a mettere a confronto le coalizioni con Stoccate. Finalmente non più a parole ma puntare sui giovani coinvolgendoli nell'amministrazione della città e non più un programma per loro come se fossero un settore a parte ma coinvolgendoli integralmente e interamente all'interno delle politiche amministrative di Avellino. Noi contrapponiamo a Maga, Mancino, Gargani che sono i padroni del regno della chimica la gioventù Vera.